sempre meno allora speriamo che riesca in qualche maniera a farlo io di più non vi so dire intanto benvenuti a Band Aid è l'ottavo episodio nono, nono Enrico è il nono è il nono ma allora devo subito correggere le informazioni di questo streaming che riportano il falso è il nono episodio tu hai una memoria che veramente no è brava perché l'hai scritto tu oltretutto nella nostra riunione qua ho proprio scritto io quindi sono io che sono l'incoglito cioè quello che l'Enrico che ha scritto oggi quella cosa non è lo stesso che vi sta parlando in questo momento non sei più abbastanza rock and roll sono un'altra persona allora prova a fare una cosa amici per adesso i vostri messaggi vocali non possono esserci ok? ve lo dico proprio in maniera candida perché devo chiamare Cristian quindi adesso andiamo a prendere il nostro Cristian Ice aspetta sentiamo intanto messaggio da Alessio ok grazie Alessio l'hai eliminato perfetto non mandate messaggi vocali perché devo chiamare Cristian quindi vediamo un attimo la situazione proviamo a chiamarlo e vediamo se si collega così ci possiamo parlare e comunque provare a fargli ascoltare qualcosa andiamo a chiamare vai dai Cristian dai Cri dai almeno lo sente poi lo commenterà in seconda istanza squilla 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 ragazzi squilla buonasera come andiamo? tutto regolare perfetto se non fosse che ti vediamo con un'immagine ferma però ti vogliamo bene lo stesso anche se sei una allora è perché mi devi fare la videochiamata sì no e non ti posso fare la videochiamata oggi è perché non la posso fare non ho modo di farlo col computer la videochiamata non è possibile allora oggi solo audio dai dai paura metti una foto brutta ti ho messo una foto bella ho messo una tua foto dove sei veramente un bel ragazzo guarda c'hai l'approvazione di Luca immagino avrai scelto la migliore no no credimi credimi che sei venuta veramente veramente bene cioè saresti quella con la cravatta al matrimonio è esattamente quella è quella proprio quella lì con la cravatta al matrimonio come facevi a saperlo che è la più brutta che si trova in resa nel cattoglio no ma non è quella con la cravatta al matrimonio ma ti pare che ti metto quella con la cravatta è peggio è peggio dai è peggio no è un'altra foto che adesso mostrerò a tutti è una foto abbastanza decente con una faccia spiritosa o spiritata che dir si voglia però oggi ci facciamo andare bene quello Cri l'unico problema che avremo è che quando poi chiamerà la band devo mettere giù quindi scrivi tu fai e gestisci le chiamate io in qualche maniera ci provo quindi proveremo a fare questa cosa in questa maniera io di più non posso fare ragazzi uno solo manco io sì a me c'è il zoom sta ancora girando zoom dopo che skype o zoom no adesso l'ho chiuso però prima sì quando ho acceso il telefono stavo ancora girando girava ciao mi hai messo mi scrivi ciao ho scritto ciao ancora là sta ancora lì che sono della amici se volete aiutare ce l'hai lasciata davanti oggi vabbè accendiamo tutto il computer ancora funziona dai ma infatti ma perché non ti colleghi col computer per curiosità mia chiedo perché non c'era manco l'audio lì non ti spiego perché 64 tracce audio e video che c'ho sì la scheda del come cazzo si chiama del come cazzo si chiama sì non riconosce niente mi fa usare soltanto quelle interne del computer ok è un momento difficile è un momento drammatico io di più facciamo in diretta ma se se il computer stacchi tutto non c'è una scheda audio al volo niente una cosa niente lasciamo stare è finita è finita se spegne allora caro Cri io spero che tu possa sentire nella maniera migliore possibile con cui io posso darti l'audio chiaramente dobbiamo fare ma io non ho capito se questa è una conversazione privata o se siamo pubblica ma quale privata siamo in diretta ma che stai scherzando bella eccolo qua eccolo qua vedete che sta sempre informissima accendi la chat così almeno leggi quello che ti scrivono e poi se posso farla brutta l'audizia un'altra Twitch sì Twitch non manda non manda le notizie delle tue live a volte sì a volte no non dipende da me questa volta è no questa volta è stata no normalmente le manda però adesso faremo un esposto al Twitch immediatamente perché non si devono al signor Twitch non si devono mai più permettere di fare una roba del genere perché è veramente veramente criminosa ringrazio nel frattempo il mio amico Luca Luperini buonasera ciao Enrico ciao sono tornato dopo aver saltato un episodio una puntata è stato vergognoso da parte tua stasera ti vedo mi vergogno tantissimo un'immagine iperdefinita veramente super crispy direbbero i professionisti i professionisti del video ipercrispi ringrazio anche il buon Liutaio che invece continua nella sua sgranatezza così un po' un po' 720p nemmeno forse anche un po' meno un 360 un 360 a riposo diciamo per il nostro Liutaio vedete come stasera alla sciarpa alla sciarpa del produttore questa sera ma ha cambiato le chitarre il basso dietro sì il basso l'ha cambiato ecco ecco ogni quanto cambi le chitarre là dietro giusto per farti una domanda di cui non ci fotte niente non c'è un grazie ad umilità quelle che uso grazie avrai te i problemi io mi vedo vedo Cristina Scabbia vedo Adrian Partate vedo addirittura Dario Moccia ma tu sei un pazzo criminale è evidente ci stanno tutti e tu sei spento ma è ovvio che siamo che siamo in onda mi sembra normale che siamo in onda allora chiedo al notaio notaio siamo in onda ci vedi sul telefonino sì io pure mi vedo sei te che sei un pazzo criminale ma che devo fare vabbè allora iniziamo stasera da un artista che fa rap che si chiama Pro Bono e vedi che il 2 22 dice che risulta offline pure a lui e anche a Claudio e anche a a Nicolò cioè mi vedono offline siamo di fronte a un bug dell'era mai esistita praticamente cioè questo è il bug dei bug perché che io sia offline mi sembra quantomeno curioso perché a me mi dice live io vedo il pannello vedo tutto vedo tutto ok non ragazzi non lo so a me mi vedono live risulta offline me lo dice Jane Do io ci credo alcuni alcuni sì alcuni no vedi che alcuni sì ragazzi però io sono online perché sto sto streamando quindi di più non so non so che dirvi ok bella foto che hai trovato comunque grazie mo la vedo quella c'era guarda guarda te la faccio vedere anche più guarda come sei bella qui guarda ho più pori che pensieri dove l'hai fatta sta foto? cioè nel senso dove te l'hanno fatta? non te la sei fatta da solo vero? questa era questa era concerto nanowar concerto nanowar ok era la cosa più recente che ho trovato perché le arte erano veramente imbarazzanti quindi non dovresti fatto un servizio fotografico come fa gli utaio spesso che si fa dei bei servizi fotografici così quando poi non sei in online riusciamo a mostrarti in tutta la tua bellezza detto questo basta il primo artista che andiamo ad ascoltare si chiama Pro Bono ora amico Pro Bono io dopo parlerò con te Cristian tu farai diciamo la prima domanda stasera ok poi prenderò l'artista ok le riflessioni e andremo avanti così e il resto scrivilo nella chat poi ti riprendo per l'ascolto appena finiamo con l'artista io li metto giù perché devo liberare quella linea lì chiaramente per fare le telefonate detto questo poi dalla prossima volta rimettiamo zoom e siamo tutti felici e tu sei felice ok io stasera l'ho fatto perché ci poteva essere un problema con gli orari e tutto non ti preoccupare tutto a posto allora sentiremo questo artista che si chiama Pro Bono che fa alternative rap questo è quello che mi è stato detto non ne so francamente nulla parleremo con lui quindi Pro Bono quando finiremo l'ascolto Cristian sarà il primo a parlare poi parlerà un secondo di noi chiuderò con Cristian nel momento in cui chiudo con Cristian chiamaci via Whatsapp al 351-839-5732 che è il numero che vedi qua sopra che ti scrivi? se tu sei televisivo però io in realtà devo scrivere le cose che dico 351-839-5732 ma te che ce fai col numero di telefono che mica mi devi chiamare no ti chiama lui tu l'hai detto che devo chiamare no tu non devi chiamare sto parlando con Pro Bono no con te ok scusa Bono no Pro Bono no Bono Bono è già famoso non te non fanno confusione che poi non si capisce più niente dopo Pro Bono sentiremo Secret Psych poi sentiremo Pausa e per ultimi Porno Cachè questi sono i quattro artisti di questa sera però se siamo sbiricati no facciamo mezzanotte io non voglio fare mezzanotte Cristian capito? muo' colpa mia mi cazzate per ore ore e ore e ore è molto io dai forza andiamo avanti mettiamo Bono potrebbe averci ragione Pro Bono il brano si chiama THC ti ho capito 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 eia ti ho capito ti ho capito ti ho capito Polinomi, polinomi, quattro Gini, 4G, THC, THC e ti ho capito, tu ho capito Fatto sopra Dite, sai che cisto le ore, giungo alla giungla di Wida e ci rungisco leone Sospettabili, sospetti, chi li ha visto è Kaiser Sose, volo in modalità zen e mi chiede, visto il Giappone Sei su, si, 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 oggi ti futili, ti distruggiti, sono su DG Face, voi su DG Mi sono messo lì e ho detto sì, poi sono arrivato qui e ho fatto chill, fatto solo chill Ti fingi morto ma non sono un grizzly, I'm so fucking shit, oh don't let me i grizzly Bocchina sul beat e sai che c'è l'oro, sì che uh Cercavo il tuo flow fra qua non c'è, però no non c'è Con la sua figa sono tenero, se mi chiede dove ho messo la guida, sì ma io che ne so THC, 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 ti ho capito, THC, 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 ti ho capito, THC Ti ho capito, ti ho capito, THC, 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 SPRECHIARO, LEZIONSO, DIREAPTICO, IMPECCI, uh Propinare, balucina, fiorama, fulgida, ordalia Tu non vivi, noi siamo qui Vuoi venire dentro con il flow? Non puoi Vuoi venire dentro qui con noi? Non puoi Vuoi venire? Non puoi Lo facciamo con voi Vuoi venire? Non puoi Schifo sui fogli per loro, non mento E mi sento appagato quando mi inciri specchio Dentro un dolore che lo ritrovo utile per non tentare la natura oltre ogni mio comportamento E quando perdo la voce dell'arte ad un passo dal cuore io mi sento fatto Ma l'arte è vedersi delusi e pertanto fra non ho mai visto un sorriso ad un ritratto Prenderò il fiato ma rendermi calmo sarà Alzare il palmo per darlo ad un amico solo Non ti avrei nemmeno permesso di andare via Ma amore sapere che starà accanto Dei passi, percorsi e sentieri tortuosi ricordo soltanto la tua suola a fianco Il featuring è di Tels E quindi per buono insieme a Tels THC è la canzone Cristian devo iniziare da te per forza Perché poi devo liberare la linea Che mi dici? Si sentiva bene? Come si sentiva intanto? Si sentiva? No, la base mi è piaciuta Molto interessante lo stile retro Con i difetti Il pruscio Tutte queste cose Togli questa foto mia in primo piano O ne metti Metti una cosa nera Metti la faccia di un altro Almeno Metto la faccia nera dai Comunque Perfetto O se mi puoi photoshopare la certezza Se per photoshop la certezza ci sto Va bene Adesso ci lavorerò Comunque Per il resto Sono confuso Nel senso Lui sicuramente stava cercando di comunicarmi qualche cosa Però Tutto Malgrado tutto Io sono stato distratto Forse O comunque non ho percepito il messaggio Va bene Non è un ascolto facile stasera Perché il tuo ascolto Chiaramente è dal telefonino Con Sì La qualità audio È un po' meglio Sì No ma Sì Probabilmente qualche parola me la soffessa Però In generale penso che Ci sia stato un messaggio Che mi doveva arrivare Questo sarebbe un problema In Due casi Separati Che si uniscono Ossia che Da una parte Non ho capito il messaggio Dall'altra Sostanzialmente Come nella musica popolare Generalmente Me ne frega poco del messaggio Nel senso Non Non essendo più adolescente Non Non riesco più A stare appresso la musica Come Quello che ti racconta Della storia Della ragazza Dei soldi Della droga Che cazzo ne so Cioè purtroppo Sono in quell'età avanzata Dove Me ne frega mezzo un cazzo Della tua vita Quindi anche se tu me la racconti Finisce che non riesco Ad apprezzare il messaggio Però Che fortuna Non l'ho capito Quindi Però la base La base La base Era Era molto bella Io spero Che sia stato lui A fare la base Che gli darebbe Molti molti punti Perché Se tutto questo Invece È tipo Carica la base Restaci sopra A quel punto Lascio la parola Agli utaico Perfetto Allora facciamo una cosa Giovanni e Luca Prima di Cristiano Metto giù con te Ok? Metto giù con te Che sì THC 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 era Era dei gemelli diversi Che poi è Tagachi Voglio dire Gli piacerebbe Nel senso Magari gli piacerebbe Avere La fortuna E il successo Di Tagachi Enrico A me mi sembra tutto apposto A me mi risulta Che sei live Eh no In realtà No Perché Anche dal mio dashboard Vedo zero persone collegate Al momento Quindi non ho idea Di quanti siamo Non so proprio nulla Siamo 89 Perfetto Grazie Saluti a tutti gli 89 Io non ve vedo Quindi anch'io per me Sono offline al momento Però lasciamo stare Non importa Non ci stiamo a cruciare Pro bono Se ci sei 351-839-5732 Chiama Con Whatsapp Ti ho liberato apposta La linea Per poter conversare con te Luca Hai dimestichezza Con il mondo del rap Hai Non più di tanto Non più di tanto Se no Diciamo Insomma Non dimestichezza Approfondita Ecco Diciamo Così La base Anch'io penso Che sia Sì Non era male Ben prodotta Non mi faceva In ogni caso Impazzire Anche comunque Quel giro Melodico In loop Ovviamente Che appunto Classico In questo genere Di pezzi Di brani L'ho trovato L'ho trovato Un pochino Forse Troppo Troppo Ispirato Al passato Le ritmiche Meglio Meglio Secondo me Il brano In se per sé L'ho trovato Sì Piacevole All'ascolto Anche se Magari Per i miei limiti Di gusto Personali Non mi ha Non mi ha Fatto Venire I brividi Ecco In questo senso I brividi Positivi Carino Niente Niente Di entusiasmante A mio Personalissimo Parere Ok Non hai Vibrato Più Più Di No Ok Allora A me Personalmente Vado io Un attimo Giovanni A me Personalmente Ci sei Pronto Sei con noi Un attimo Che vedo Se è collegato Il nostro Amico Lo vedo Collegato Però non lo sento Quindi vediamo così Dammi un secondo Soltanto Che sto provando A collegarmi Ci sei? Io ti sento Adesso Pronto? Pronto Ciao Eccomi Sì Ciao Benvenuto Ciao Pro Bono Come stai? Tutto bene No Bene Bene C'è un ritardo Sei in Australia Vero? Di la verità E noi stiamo parlando Con una connessione Telefonica Del 1981 Sento un po' di Un po' di ritardo Ma a parte quello Per il resto Per il resto Tutto a posto Mettiamola così Allora Intanto benvenuto Al programma Complimenti Perché comunque Io trovo Che la produzione Sia una produzione Assolutamente Professionale All'altezza Poi mi racconterai tu Qual è la tua storia E come sei arrivato A questo brano Ma Onestamente Ho preferito Le tue barre A quelle di Tels Personalmente Come puro gusto Mio personale Le ho trovate Più Più efficaci Onestamente Non Non ho capito Di cosa mi stavi Cantando E qualcosa Poi ti chiederò Di spiegarmi Perché comunque Il linguaggio utilizzato È un linguaggio Ovviamente Di codificato Tecnico È chiaro che È più legato Probabilmente A un A un Codice Che appartiene Meno a me Ma Sul quale Io non vado a sindacare Quindi per me Poi mi direi tu La canzone In realtà Di che cosa Di che cosa parla Ma Ho trovato Tutto estremamente Ben fatto E Non ho trovato Mai che scadesse Non ho trovato Numeri da funambolo Ok Non ho trovato in te Un flow spaziale Non mi sono innamorato Del tuo flow Pensando Di essere di fronte A un prodigio Però Probabilmente È la canzone Probabilmente Ci sono altre cose Dove tu magari Ti distingui di più Io questo non lo so Comunque Il tuo primo singolo E onestamente Non mi sembri neanche scarso Ecco Questo te lo dico Proprio sinceramente Quindi Da questo punto di vista Sono rimasto Piuttosto soddisfatto Lascia a te un attimo La parola E mi spieghi Almeno due tre cose Del tuo background Di come sei arrivato A questa canzone E del significato Della canzone Questo Ha un sacco di tempo fa Con un mio amico Tels Sì Che appunto Allora facciamo Facciamo una cosa Aspetta Fermo lì Probono Fermo lì Ti devo chiamare in audio Perché Sì 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 Va bene Ti prende in audio Ti prende il telefono Assolutamente Ok perfetto Perché Oppure Chiamami tu Chiamami tu Chiamami tu In audio Allo stesso numero Ok non con Whatsapp Grazie Allora Aspettiamo che si ricolleghi Perché evidentemente Stasera non siamo fortunatissimi Per quanto riguarda Le connessioni E sento intanto Un messaggio di Evan Al di là di tutto Cioè Si è sempre parlato Di 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 In questo In questo format Della freschezza Dei pezzi Dei brani E io ormai Questo lo trovo Un genere Ormai già Vecchio Cioè ormai Tutti fanno questo Cioè Ve ne potrei citare Mille E lo fanno Forse anche un po' meglio Ok Prendo intanto La chiamata Poi Evan Lo recuperiamo Successivamente Lo Metto dentro Pronto Eccomi Oh Finalmente Ti sentiamo bene Ciao Probono Finalmente Una connessione Sì Degna Di una conversazione Allora Scusami A te la parola Non so se Intanto hai sentito Il messaggio Di un nostro ascoltatore Che dice In questo momento Trovo la sua proposta Musicale vecchia Nel senso che Questa cosa qui La fanno tutti E quindi si aspetta Invece qualcuno Che porti avanti Che porti avanti La questione È ovviamente La sua opinione Quindi Chiedo a te No no Ma io sono d'accordo In realtà Perché in programma Ho delle canzoni Che non c'entrano Assolutamente niente Con questo Io ascolto Tantissima Musica americana Rap Forse una delle mie preferite È Playboy Carty Che è proprio L'apoteosi Della distruzione Artistica Di questo genere Smettere versi Ad libs A caso Totalmente A sentimento Sul momento E praticamente Mi sono ispirato A quello Ok Ok Di dove sei intanto? Io Milano Ah ok Sei di Milano Perfetto Qual è il tuo Background Quanti anni hai Da quant'è Che fai rap? Ho 21 anni Scrivo Da quando Avevo 15 14 15 Chiaramente Alternando Tra scuola E altre cose Quindi Solo adesso Mi sono messo A scrivere Cose più decenti Diciamo Questa infatti L'ho scritta Un bel po' di tempo fa Quasi due anni fa E l'ho anche registrata Un anno fa Però era un prodotto Che mi piaceva Far uscire Perché è comunque Una parte di me Nonostante sia Come dire Un po' sporcata Da appunto Da queste cose Vecchie Come ha detto Il ragazzo di prima Ma è comunque Una parte di me Che volevo far uscire Quindi Ascolta Christian Ice Ci chiede Se hai scritto Se hai composto tu La base Se l'hai prodotta Tu la base No Aspetta Rimetti il telefono Rimetti il telefono Vicino alla bocca No È che ho un problema Con il microfono Adesso è meglio Sì Adesso ti sento Sì La base No Non l'ho prodotta io In realtà La melodia sotto È presa da un Type Beat Su YouTube Ok E Mi piaceva tantissimo Però Quindi non Non ho potuto fare a meno Di tenere quella Perché appunto Il beat Si chiama Bells from Hells Che appunto Le campane dall'inferno Mi sembrava una cosa Che salisse Piano piano Diciamo Ok Quindi l'hai utilizzata Fondamentalmente Come Supporto Per poi Metterci Metterci le strofe Sopra Praticamente Quindi Del brano Che noi abbiamo ascoltato Musicalmente Di tuo Non c'è niente Della base Della base Della base No La base È quella Presa E tu Ci hai messo Sopra Ok Ok Non ti ha dato Problemi di copyright Questo Per una release Che comunque Trovo su Spotify No 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 Perfetto Ok Buona sapersi Allora Per essere 21enne Dico sei Indubbiamente Molto giovane In un mondo Totalmente In espansione Oggi facciamo Una trasmissione Dove vedevamo E constatavamo Come le prime Cinque posizioni Degli album Più venduti In Italia Più stremmati In Italia Dei singoli Più stremmati In Italia Dei cinque artisti Più stremmati In Italia Sono Interamente Interamente Artisti rap Cioè Tutte cinque Le posizioni Di queste cinque Categorie diverse Sono occupate Da artisti rap Quindi tu sei Nel genere Sicuramente Più Importante Italiano Del momento C'è L'appento C'è da capire Che cosa Che cosa Vuoi fare Che tipo Hai mai fatto Esibizioni Dal vivo Ti sei mai Esibito No Ma non c'entrava Con la mia musica Erano cose Esterne Ok Ti do Giovanni Che sono sicuro Che ha delle domande Per te No domande Sinceramente No Io Solamente Fare Dei Dico La cosa Più positiva Che Mi è saltata Subito All'orecchio Che Il flow A mio avviso È Particolarmente Interessante Per una gestione Ritmica Che Considerata L'età Considero Molto Molto Direi Anche Matura Cioè Tecnicamente Una gestione Del Del flow Dal punto Di vista Ritmico E Cercando Di incastrarlo Bene Con la Metrica Su cui Non posso dire Nulla Questa è la cosa Che più Mi ha Colpito Poi Non è che sono Particolarmente Avvezzo Al genere Però Dovendo fare Un'analisi Dal punto Di vista Musicale Visto che La base Non è Valutabile Perché Non è Tua Ho trovato Una Una Gestione Ritmica Molto Interessante Molto Padroneggiata Bene Questo Sicuramente Concordo Anch'io Por bono Cioè Nel senso che Per essere la tua Prima cosa Poi non so Da quanti anni Ti alleni Da quanti anni Cerchi di trovare La tua Il tuo flow Il tuo fraseggio Il tuo modo Di stare Nel mondo del rap Però Non mi ha Fatto pensare Ho sentito di peggio Nel tuo genere Molto di peggio Quindi Francamente Come ho sentito Di meglio Però Francamente Per essere un artista Al debutto Certo Mi interesserebbe Sapere Che tipo di basi Fai Se ne farei mai Se ti affiderai Un produttore Per farle Perché Magari 9 su 10 Ci si affida Un produttore Però in quel caso È determinante In realtà Ho Insieme a questa canzone Altre 6 7 tracce Che andranno tutte In un album Che uscirà Tra poco Saranno tutte Diverse Cioè Molte basi Saranno prese Da youtube Perché veramente È una fonte Di Ispirazione E Aiuto Anche Soprattutto A noi Diciamo Emergenti Grandissima E Però Le altre Che ho fatto io Spaziano Non mi fermo Su questo genere Ne ho una Tecno Una un po' più hardcore Un'altra un po' più sentimentale Cioè Questo qui è Quella più divertente Del progetto Di che parla THC? A parte che del THC? Ma di Di Tutto Di niente È Una canzone un po' Senza messaggio Come diceva prima Christian Sì Dal punto di vista Della Commercializzazione Un po' Di questo genere Il messaggio è andato un po' a perdersi E volevo proprio Creare questa sensazione Di distruzione Cioè nel senso La frase prima Non c'entra niente con quella dopo E quindi Ok Anarchico Certo Anarchico La parte di TELF Ad esempio Se vi dico come l'ho scritta Praticamente Lui aveva un agenda Delle parole Che non sapeva Tra quelle che leggeva nei libri Perché a quel periodo Stava studiando E gli ho detto Dille una per volta Tutte quelle che E gli scritti Dille una per volta E abbiamo la prima parte Della trofa Perfetto Ti chiedo Un'ultima Un'ultima cosa Perché comunque È un E tu è un progetto Estremamente Come dire Grezzo Sta nascendo adesso Quindi Ci sono tanti elementi Che ancora devono Contraddistinguerti E che non hai potuto mettere In atto In scena E quindi Magari ti dirò Quando pubblicherai Altre cose Magari saranno anche Delle basi Non prese Appunto da YouTube Ma qualcosa Poi che potrà Contraddistinguere Il tuo ascolto Fammi rascoltare Ma Mi chiedo Sei amico Di altri rapper Sei Conoscente Di altri artisti Di una scena Di un Di un gruppo Di riferimento Di artisti Di rappers Oppure sei un cane sciolto Dall'inizio Alla fine Beh Tra le due La seconda Tra le due Però Diciamo che ci sono Tanti artisti Emergenti Più grandi di me O che comunque Erano emergenti Quando ho iniziato A sentirli Che adesso sono già Diciamo nel gioco Tra virgolette E Mi piacciono tantissimo Molti Insomma Che i visi Non so se Avete mai sentito parlare Della mia zona Di Milano Ad esempio Lui è Uno che mi piace Tantissimo Anche se ci ho parlato Giusto un paio di volte Non è Mio amico Ecco Ok Cerca di Entrare Nel Diciamo Nella corte Di Qualcuno Che possa aiutarti A Fare delle apparizioni Cioè Dei live Cimentarti Con un pubblico O Con delle produzioni Nel senso che Comunque credo Che sia Che sia fondamentale No Per 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 Emergere Perché altrimenti Resti in una zona Di Una zona buia No Adesso Noi stasera Sicuramente Ad almeno Cento persone Ti facciamo conoscere Ma poi Serve ben altro No Serve una Ok Questa canzone Qui Per avere Un feedback Vostro Sicuramente Con la quantità Di persone Ok Guarda Non è sicuramente Negativo Il feedback Mi sembra di capire Che non sia Che non sia sicuramente Negativo Però È troppo acerbo Per poterti dire Di più Quindi Intanto in bocca al lupo Pro bono Grazie per averci contemplato E per aver mandato Il materiale Il materiale a noi Sei giovane Sei pieno di energie Suppongo Quindi Datti da fare Scrivi 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 Prendi da dove vuoi Però tra un po' Inizia anche A lavorare Sulla parte musicale O tu direttamente O con qualche produttore Va bene? Sì Manca Grazie Grazie a te Ciao Pro bono Buona serata Ciao Grazie mille Grazie mille Allora Vado a riprendere No Vado a risentire Evin E vi faccio finire Il concetto Che stavi esprimendo Al di là di tutto Cioè Si è sempre parlato Di 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 In questo In questo format Della freschezza Dei pezzi No Dei brani E io ormai Questo lo trovo Un genere Ormai già Già vecchio Cioè Ormai tutti Fanno questo Cioè Ve ne potrei citare Mille E lo fanno Forse anche Un po' meglio Perché hanno Grossi produttori E grosse case Discografiche Dietro Quindi cercherei Qualcosa di un po' Più personale Magari anche Proprio nel Nel modo di cantare Tutto qua Con il flow Ok Io poi ovviamente Ho voluto dare Un Giudizio Fra tante virgolette Su questo pezzo A parte che non sapevo Fosse così giovane Ragazzo Quindi E poi ha detto Che fa anche altre cose Quindi Sarei curioso Di sentire le altre cose Che fa adesso Quello mi interesserebbe Molto più Perché ha citato Ho fatto delle citazioni Interessanti Assolutamente Sono d'accordo con te Evin Infatti credo Che sia così Il modo Con cui ci siamo Salutati Vado a richiamare Quel diavolo Anzi Quel diavolo Di un Christianais Eccolo qua Andiamola a chiamare E così Lo riportiamo Dentro questa nostra Bella conversazione E ci andiamo A sentire Invece Eccolo Dimmi Dimmi C'è qualcosa Che vuoi aggiungere Sul pro bono Guarda Io Volevo dire Stessa cosa Prescindendo Dal fatto Che comunque È presto Che una persona Di giovane età Si metta lì Si esponga Cerca di Cerchi di esprimersi E quello che Per quanto Uno Possa Voler essere Generoso Nel giudizio Non deve Però Poi Parallelamente Mancare Di rispetto A tutti quelli Che Anche Facendo delle cose Mediosi E di cose Mediocri Ne abbiamo sentite Tante Però Sono fatte Con Il Bucetto Di culo Di te Che ti metti A casa E fai una cosa Brutta E poi Ti ritrovi Enrico Che ti dice Cazzo Però Quanto è Brutta E ti trovi Cristian Che ti dice Eh Però Cazzo Tu parli Delle basi Io Parlo del fatto Che Io Sicuramente Non posso Cambiarla La testa Delle persone Vedo che Questa è una cosa Che si fa Comunemente Se prendo la base E ci dico Sopra delle cose Che No più che altro Perché Cristian Lo sai che c'è Che tanti rapper Non rappano Sulle proprie basi Ho capito Però Se io Prendo Un pezzo Dei Slayer E ci dico Una cosa Di mio Tu non è che puoi Valutare la musica Che dice Eh sì È interessante Infatti Normalmente No Bisognerebbe Però Bisognerebbe Però Cercate Mandare un messaggio Abbi pazienza Abbi pazienza Bisognerebbe Perché lui Comunque lo fa In un panorama Dove è normale Però Bisognerebbe Anche Lanciare Un messaggio Di noi Boomer E Vecchiacci Di merda Che ricordo Le persone Che fare le cose C'ha C'ha comunque Un valore Cioè Quando tu produci Una base Che sia bella o brutta Però c'ha magari Quel suono Che c'ha Quella melodia Che c'ha Che vedere Con quel cazzo Che dici Io poi capisco Che tu trovi Ah figa questa Adesso io Allora Rimaniamo così Che se tu produci Anche 12 canzoni E so Prendendo le basi E sopra Ti esponi E dici tutto quello Non me lo chiama album Però Me lo chiami Il demo Di quello che io Potrei essere Se facessi un disco Perché non è un album Se te prendi La musica E ci fai il tuo sopra Perché quello che è tuo È soltanto la voce sopra Quindi Vuole costruire qualche cosa Anche il rispetto Di tutti quelli Che prendono gli strumenti E ci suonano E non può diventare Tipo vabbè Dai sti cazzi Prendi la base su internet Oppure Fai il demo In garage E una cosa Va apprezzata E l'altro È però Sei una pippa A mixare Il tuo demo In garage C'è Giovanni Che vuole intervenire Cri Nel senso Che io Rotti i coglioni Al gruppo Delle marche L'altro giorno Perché È però Questo trigger Non Capito È un mondo diverso Il livello È proprio È completamente È un mondo diverso Che non risponde A queste regole Cioè Tu stai parlando È il mondo della musica Che risponde Ai regole Dell'arte No Non è Non è Non è Non è Non è Concentualmente Storicamente Tu devi prendere È sicuramente Soggettivo Del contenuto sensibile All'interno Del rap Non lo so Vogliamo dare Un 80 85% Al contenuto Del testo E al flow E alla capacità E all'intensità Di portare La voce Sopra All'un beat Che Cioè Storicamente Per come nasce Anche Io non sono un esperto Ma penso che Enrico Può confermare Sta cosa Ma figurati Ma certo Come nasce Essendo una cosa Proprio De strada Cioè Anche Cioè Venivano proprio Appositamente Presi Dei beat Guarda che La capisco Perfettamente Però La capisco Perfettamente Ma se tu la metti Su questo contesto Allora O metti di fuori Una tecnica Che Eminem Sembra una Pippa Ma è un ragazzino Sta iniziando Ma infatti Non sto a parlare di lui Sto a parlare di generale O è Celli Sulla tecnica O è Celli Si dice Si però Si Si però Non è O è Celli Sulla profondità Del testo Però Io non credo Che Allora Oggi parlavamo Di come Tra le prime 15 Nel mondo Delle 15 Canzoni Più streammate In questo momento In Italia 15 Sì 12 Sono di Sfera E basta Io non credo Che Sfera Si sia mai scritto Una base Aggiungo Non credo Che Guru Si sia mai scritto Una base E che gliel'abbia Sempre scritta Premier Non credo Non credo Non credo Che Eminem Si sia mai scritto Una base Credo che gliel'abbia Sempre fatte Se non Se non Drei Qualcun altro Non credo Che Easy Si sia mai scritto Una base Ed era Easy Ok Cioè Nel senso Sei un mondo Che non risponde A queste regole Dimmi Luca No Dicevo Ok È giusto Ovviamente Appunto Delle regole Che funzionano In questo modo È normale Che sia così Appunto Ci sono dei produttori Molto Molto bravi A creare Quei beat Quei groove Quell'atmosfera Dove Il rapper Di turno Può andare A ruota libera Però Un conto È farsi Quanto meno Imporsi il problema Di trovare Un produttore Che ti scriva Una base O comunque Ti dia una base Per te Un conto È scaricarla Da youtube Dove tutto il mondo Può scaricarla E usarla Allo stesso modo Su altri Altri cento brani Cioè Per me Questa è una cosa Inconcepibile Anche dal mondo In cui vengo io Con diciamo Ovviamente Più dimestichezza In cui lavoro Capisco La giovanità Capisco L'intenzione Eccetera E anche La velocità Nel poter Perché se non Non è un produttore Ovviamente Ha anche bisogno Di trovare i mezzi Semplici E stanno così Giovani Per iniziare A fare esperienza Ma da qui Per far riuscire Sul mercato Con una base Per la web Non era contro Le ragazze È ovvio Che non puoi Capiamoci Non è quello Che dicevo io Non era Per dare addosso A ragazze Lui Lui c'ha 21 anni Fa una cosa bellissima E mette Il suo testo Eccetera Però quello Che voleva essere Il mio Era un incentivo A creare Qualche cosa Perché se Il momento Che te Vai a prendere La base Di là Ma anche Che te la scrive Uno E non gliene frega Un cazzo Della tua musica Cioè È importante Cioè la musica È importante Cazzo Vabbè che nel rap C'è una metodica Diversa Però Cazzo Tu stai a creare Qualche cosa Quando crei Qualche cosa Deve essere Tuo Anche che tu Dici al produttore Guarda che questa canzone C'ha questo sentimento Mi serve questo tipo Di suono Perché deve richiamare Non può essere Una caccia al settoro Della base Di youtube Deve essere La creazione Anche perché Tu dici Se no Anche che sarà Un genere diverso Tu manchi Di rispetto A tutti quelli Che Si imparano A portare la chitarra Non puoi parlare Di mancanza di rispetto Non è così Ma non è così Cristian Sono dei parametri diversi In questo genere Non funziona così Questo genere Non funziona così Ma allora Se io devo Blassare uno Perché la tua Produzione È scarsa Quando Devi calcolare Il flow Devi cancellare La produzione E sentire solo Quello che mi ha detto A meno che Siamo d'accordo Che lui ha detto cose Che comunque Non avevano Un senso preciso Che lui Prima o poi Si deve affidare Chiaramente A un producer O se le fa lui O si affida A un producer Prima o poi Questo step Ovviamente Lo deve fare Perché così È zoppo Lui cosa fa Pubblica queste canzoni Per farsi notare Come Flow Come MC E cercare qualcuno Che Ha tirato Da questa casa Senti sto ragazzo Che belle metriche Che fa Senti che belle rime Che fa E dice Perfetto Mi piace Ci lavoro sopra Questo che lui sta facendo È uno specchietto Per la lode È come se andasse In Un concerto Ma sai quanti Cioè Quando fanno le rap battles Le gare di rap Mica le fanno Su basi originali Le fanno su Il brano La base strumentale Ed è un pezzo Qualsiasi Famoso E si sfidano Su quelle Perché non è quello Che conta Conta il flow Conta la metrica Conta la rima Conta altro E quindi Si vanno Tu stai parlando Di C'è le release stesse Cioè Io Ripeto Puff Daddy Se prendiamo il beat The Rebirth You Take Cioè Lì non c'è neanche Un remix Cioè Un cut Preciso E ci ha fatto Una hit mondiale E parliamo Di una release Non è solamente Nel mondo La strada Esatto Ragazzi Cioè Veramente È un mondo Diverso Trovo strano Parlare di Mancanze di rispetto Non rispondo Alle regole del rock O della musica pop No io dico Io ho stato dicendo Una cosa Sulla severità del giudizio Noi siamo stati Molto severi In tutte Quante le trasmissioni Perché C'erano Delle mancanze Eccetera Se tu Da questo pezzo Togli La base E ci lasci solo Il flow E il testo Secondo me C'è molto Molto Da lavorare Ma gliel'abbiamo detto Ma nel senso Che non sono rimasto Stupito Né da uno Né dall'altro Ma gliel'abbiamo detto Ho detto Che ho sentito Io spero Per lui Che si ripuoli Delle cose Che mi rompono Al culo Però Cristian Gliel'abbiamo detto Gliel'abbiamo detto Chiaramente Cristian Prendiamo una volta Aspetta Gliel'abbiamo detto Gli è stato detto Io sicuramente Ho sentito Di peggio Così come ho sentito Ovviamente tanto di meglio La presi e la pagai La presi e la pagai Certo È così Amanzi In questo caso Non la pagò nemmeno Andiamo al prossimo artista Ok Stasera chiedo scusa Per le difficoltà Ma sono di Twitch Non sono responsabilità Di Alive Music Channel Sono totalmente Responsabilità di Twitch Io non vedo più L'attività Di chi si iscrive Di chi non si iscrive Vedo zero persone collegate Quindi Le difficoltà che voi vedete Aspetta Te laghi pure Tu già laghi De tuo Pensa quanto laghi All'interno di una diretta Che lagga Cioè È praticamente Lagga al quadrato Allora Stiamo per andare a ascoltare Invece Una band Che si chiama Pausa Anzi Un artista Che si chiama Pausa Ok Sono Curioso Perché Si presenta In una maniera Molto particolare Non so che genere faccia Quindi Ci andiamo a sentire Questa canzone Che si chiama Il suono Del silenzio Il suono Del silenzio Fausa Il suono Nella testa Lei che aspetta Che mi spenga Sospettare Il silenzio Per rimanere fermo Dentro il cuore Batta il petto Fai rumore Di un dannato Sopra il perno Oh là Tempo peso Tempo scherno Sta dicendo Che il magino Sta cadendo Forse questa stanza Ha funzionato Tutto all'inverso La morte Mi ha lasciato Un fiore nero Come pegno Pegno Non lo so Mai Un pausa Urro per la giusta Forse le parole Per esprimerlo Non passano Lascerò il silenzio Per rimettermi Col frazzano Questo suono è silenzio Forte dentro Fuori spento Sei voluto scappare tu Ma non scappi da te stesso Metti il tempo basso E i ricordi Riemergono Pesi testa Sguardo spento Proverò ad urlare Dentro il vuoto Di quest'anima Senti caro amico Perché urli Sei malchiavica Parla Scappa Sprite Urlare In silenzio Ma il silenzio Mi accompagnerà Per sempre Forse se mi ammazzo Quel silenzio È pronto a spegnere Quella sensazione Come i chiodi Nelle tempie Cosa suono il silenzio Forte dentro Fuori spento Sei voluto scappare tu Ma non scappi da te stesso E i ricordi Questo suono il silenzio Forte dentro Fuori spento Sei voluto scappare tu Se voluto scappare tu No 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 Eccolo qua pausa la canzone è il suono del silenzio chi vuole partire Cristian in realtà deve partire comunque allora in realtà deve partire comunque Cristian perché poi dobbiamo liberare la linea per farci chiamare da pausa aspetta un secondo vai Cristian io ho apprezzato nel senso in questo caso anche tornando su un genere di musica che magari gira più attorno alla voce al testo al messaggio ci ho sentito una cattiveria purtroppo essendo connesso via telefono magari mi sono perso dei passaggi delle cose però l'attitudine c'era e secondo me qui c'era anche più sui cori, sulle cose una costruzione sulla canzone o no? ah beh indubbiamente sì certo qui ti propone una canzone e quindi chiaramente hai da giudicare capito? se in questo caso lui ha preso il loop di batteria da YouTube e poi ci ha messo la ragazza che fa i cori e lui che ci ha urlato sopra tutte quelle cose che gli fanno ruolo del culo che non ho capito ma immagino siano tante perché lo vedevo bello incazzato è già una costruzione più personale già cioè ci sto dietro nel senso poi magari mi scrivi quello che hai detto e vediamo se può fare qualche cosa però ci sta allora allora grazie Gretti riprendo dopo pausa quando vuoi chiama e se vuoi chiamare con la linea normale fallo se vuoi chiamare con Whatsapp fallo è indifferente come ti viene più comodo come ci garantisci un ascolto migliore sicuramente è un progetto diverso questo qui rispetto a quello di Pro Bono perché è sicuramente più sviluppato no? parliamo di step successivi rispetto a quello che abbiamo sentito prima non so Luca se sei d'accordo beh sicuramente già più canzone completa quantomeno appunto sono d'accordissimo anche con Christian che dà la sensazione per quanto sia sempre comunque una base molto semplice è la parte strumentale che però ruoti attorno all'intenzione di ciò che che canta all'atmosfera segue il senso anche di ciò che dice di come lo canta quindi l'ho trovata come hai detto giustamente te lo step successivo più interessante piacevo particolare anche il suo modo di cantare mi è piaciuto anche molto la parte femminile interessante non male non male ecco questa è la cosa è la cosa importante e Giovanni come ti è sembrato a te? allora anche secondo me interessante ho trovato il beat sicuramente qui c'è una costruzione per quanto magari potrebbero essere campioni ripresi o comunque beat lavorati un pochino troppo scarico sul sul corus specie sul primo corus scarico? molto molto sì troppo scarico troppa poca ritmica non non faceva salire per bene sul corus diciamo che veniva tutto delegato alla voce della della cantante ma dal punto di vista ritmico rimaneva più scarico ho trovato questa bello il contrasto tra l'intenzione aggressiva e in contrasto con la morbidezza della della voce della cantante però secondo me a livello proprio di impostazione vocale l'ho trovata molto artefatta cioè questa questa aggressività questo andare a graffiare eh poco controllato e quindi a tratti anche anche sguagliato quindi non ho trovato una padronanza dello strumento voce quanto più un sì sto incazzato col mondo devo devo urlarlo però magari vado un pochino anch'io a forzare la mia voce nel nel cercare di trovarci questa aggressività quando magari di mio non ce l'ho ecco se di tuo non ce l'hai imposta la voce per fare questo tipo di lavoro perché così mi è sembrato un po' troppo improvvisata questa questo graffiare questa aggressività pausa benvenuto a bandaid ciao grazie grazie buonasera a tutti buonasera ciao oh che bell'entusiasmo nella tua voce sembri così tanto così tanto screamo nel nel quando fai il rap invece così tanto tranquillo quando 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 parli normalmente allora eh sì intanto ti chiedo di dove sei e quanti anni hai allora io ho vent'anni e vengo da Padova in realtà sono un po' sparso sono siciliano però trasferito a Padova sono un po' cittadino del mondo in realtà ah dal però ho sentito che infatti hai qualcosa di siciliano di dove? è una città bellissima Caltanissetta senza mare montagne e col tenore di vita più basso d'Italia perfetto mi sembra il posto migliore migliore del mondo c'è l'autostrada? adesso ci passa oppure non ci passa? bella domanda ho provato a chiederla a qualcun altro esatto allora dai tempi me non c'era l'autostrada così mi ricordavo evidentemente mi sa che questa cosa è rimasta è rimasta tale e quale allora mi racconti un attimo invece c'è il background della tua di produzione nel senso che chiaramente rispetto a quello che abbiamo ascoltato prima portato da Pro Bono sembra comunque di trovarci di fronte a qualcosa di molto più prodotto sei tu che produci hai qualcosa da dire rispetto alla discussione che ne è nata prima assolutamente sì ok in realtà il brano è molto più complesso di quello che appare già dalla strumentale ha alcune influenze alla Vaporwave e all'IDM soprattutto io lavoro con un produttore che ha questa influenza soprattutto per quanto riguarda l'elettronica sì e il sesso stesso è possibile vederlo in diversi modi è uno storytelling e è pieno di citazioni alla filosofia a Camus e ai temi dell'esistenzialismo ma dai infatti il sesso stesso può essere visto come una storia raccontata dove un ragazzo in questo caso Pausa cioè io si ritrova da solo nella sostanza come diceva Pascal e sente il rumore del silenzio nella sua testa che urla e lì inizia una storia che va avanti in cui lui rendendosi conto di questa cosa parla con il silenzio impersonificato dalla voce seminile che come si vede dal video o dal brano su Spotify non è segnata perché non è importante chi sia la voce la voce c'è sempre e non è importante chi sia e allo stesso modo il brano può essere interpretato come la rappresentazione delle fasi dell'assurdo di Camus cioè l'accettazione a ribellione e il suicidio infatti è diviso in tre parti Pausa che hai studiato tu al liceo? io ho fatto un percorso complessissimo e sono una piuniere non ci credo io avrei detto filosofia o lettere cioè un filosofia o un liceo classico no è ancora più assurdo sono all'università e sto facendo informatica perfetto no vabbè sono un programmatore sì sono un programmatore da quando sono piccolo piccolo bene no è interessante questo tuo sfociare in citazioni letterarie di un certo tipo neanche banali insomma non hai detto Baudelaire mi sembra piuttosto no non che ci sia niente di male però è una facile citazione o Bukowski ok facile citazione sei andato a prendere comunque riferimenti un pizzico più più ricercati quindi complimentoni oh hai letto io ho detto qualcosino prego io in realtà ho detto qualcosino il brano il brano ha molto di più anche il video che sto prodotto da Evil che è lo stesso produttore di Lone Faun è pieno di easter egg e di riferimenti all'esistenzialismo e anche all'esoterismo splendido ok questa cosa mi piace mi affascina veramente tantissimo una cosa al volo certo veramente i complimenti perché nel 2020 è fondamentale creare uno storytelling per vendere un prodotto qualsiasi esso sia e comunque questo fatto che te l'hai esposto e ce l'hai soprattutto ben chiaro in testa infatti non finirà così la storia di Pausa andrà avanti buono questo te lo auguriamo ovviamente tutti Pausa ascolta volevo volevo chiederti un allora non so se hai letto la chat mentre andava il tuo brano no purtroppo ho chiuso il pc perché non ci sentivo meglio la chiamata te la racconto io diverse persone con competenze nel mondo del rap scrivevano Chaos One Chaos One e uno ha detto questo è Chaos Two vuoi dire qualcosa in merito? me l'hanno nominato DJ in realtà eppure io non lo conoscevo Chaos One io in realtà non vengo neanche dal rap io vengo da no né dal rap né dalla trap io vengo dall'elettronica e da in realtà suona la chitarra e suonava ancora la chitarra infatti nel video ho la felpa dei Polifia ok che è questa band che fa un genere particolarissimo che mischia elettronica e chitarre elettriche bassi è una band che fa elettroneo gli strumenti musicali praticamente ho capito tipo i subsoni che avevi a dire scusate le riferimenti no è molto particolare in realtà era una battuta ovviamente era una battuta era una battuta Luca era una battuta stai tranquillo non mi fare un TSO non mi fare un TSO al volo senti Luca si occupa della parte elettronica diciamo quindi secondo me può essere interessante ascoltare un suo punto di vista visto che hai fatto riferimenti a un produttore che lavora con l'IDM Luca tu hai sentito qualcosa di hai riscontrato qualcosa di quello che ha raccontato a parole nell'ascoltare la base ma secondo me ci sono tantissimi o argini ancora di miglioramento in quel senso la base l'ho sentita come dicevo prima sicuramente insomma incentrata sull'atmosfera del del suo insomma del testo di quello che cantava però insomma a livello di intensità anche come giustamente notava Giovanni prima ma anche come ha detto Cristian all'inizio dell'intervento ecco una produzione sicuramente un pochino più incisiva darebbe darebbe farebbe fare a mio avviso qualche passo in avanti ancora qualche passo in avanti a un brano già sicuramente interessante ecco non so ovviamente chi ha prodotto la base chi quanto esperienza ha quanto sia produttore diciamo con esperienza in questo senso perché ovviamente sai anche te come ragazzo di prima molto giovane io stravedo per i giovani quando sento un ventenne che ci parla di queste cose rispetto anche ai diciamo più vecchietti di esperienza rispetto ad altre puntate sono molto più curiosito perché ovviamente vedo davanti tantissimo tempo per migliorarsi e svilupparsi veramente come artista però ecco sono curioso chi è che ti produce fondamentalmente le basi chi è che lavora con te e che tipo di esperienza ha in questo senso allora produttore mio si chiama Mofo ed è un ragazzo che più che venire dall'IDM non si conosce i flum come come artista ha moltissimo la sanità flum non che infatti i brani in produzione adesso avranno delle caratteristiche alla flum con Scream sopra ovviamente e cantato anche in pulito come reagiscono allo Scream chi ti viene ad ascoltare se ti vengono ad ascoltare fai attività live? no ancora no anche perché col periodo non è possibile pensavo prima insomma sì magari ti eri già mosso è uscita da un mese circa il primo brano è un concept diverso diciamo ok normalmente per esempio noi che veniamo dal mondo del rock tendiamo a esibirci prima per anni prima di pubblicare invece capisco che ci siamo e questa cosa era ai tempi dei sabotage adesso non c'è più questa cosa certo è roba antica infatti no ma noi siamo antichi perché non no non è che è antica più di altro è io ho sempre ascoltato anche musica nell'ambito del metal e sono da diversi concerti metal e ho ascoltato anche i sabotage in live e che sono una band degli anni 80 che fa ancora live ed è introvabile e sono un tipo di concerto diverso rispetto ai concerti rap il tuo gare è molto diverso sia a livello di persone che sono dentro ma anche di cosa si fa all'interno di un concerto rock metal e che sia quindi è un po' complesso pensare in paragone no no assolutamente assolutamente guarda allora ti voglio dire due cose io pausa prima che poi passiamo perché stasera sono quattro gli artisti quindi devo dedicare necessariamente un pizzico meno di tempo a tutti e ti voglio dire le cose che a me non sono piaciute perché il resto mi è piaciuto tutto anzi ti dico la verità io non ho sentito grossi problemi vocali perché per me anzi più rozzo è quello che tu fai a me non ha stonato non ha dato fastidio quindi non mi serve che sia fatto in che sia imbellettato che sia fatto in una maniera o di maniera ma mi andava benissimo così quindi francamente sulla voce ho trovato meno disturbante rispetto a Giovanni quello che ho ascoltato sicuramente molto di impatto ma questo mi va benissimo ho più dubbi per quanto riguarda la base in sé per la parte ritmica proprio come tipo di suoni come scelta di suoni e un po' anche come scelta di fraseggio della della ritmica e non sono un grandissimo fan della voce di chi ha cantato dell'anonima cantante non sono neanche un grandissimo fan della melodia che la voce dell'anonima cantante fa quindi mi sono piaciuto di più la ragazza ok in realtà la voce della ragazza c'è una storia dietro abbastanza interessante la voce della ragazza non è una cantante è una ragazza presa come tante a cui è stato insegnato l'abbiamo rapita l'abbiamo presa portata tanto che lei stessa non ha voluto il nome presentare la canzone cosa che era in linea anche con il brano stesso e anche con la denuncia che ha presentato era in linea ovviamente la scelta dell'anonimato immagino la scelta dell'anonimato e la cosa interessante è che è stato complesso e mi sono spostato verso un'idea che la voce deve essere in contrasto nel senso è giusto che la voce dia fastidio perché il sole e il silenzio deve dare fastidio certo a me non ha dato fastidio per esempio a me non ha dato fastidio non mi è piaciuta la timbrica no non mi piace proprio la timbrica nel senso che a livello di timbrica deve essere piazza l'idea è che deve essere piatto ok allora sei riuscito perfettamente nell'intento se questo era l'intento ci sei riuscito perfettamente poi che a me piaccia questo no nel senso che o dovresti pubblicare degli enormi pamphlet di accompagnamento alle tue canzoni dove spieghi signori quello che state per ascoltare è volutamente piatto quindi sì è una cosa abbastanza un problema in realtà questa cosa non riuscire a far capire al pubblico cos'è ci siamo scontrati la scorsa settimana con un problema simile ovvero dei ragazzi che dei ragazzini molto giovani che ci avevano mandato non era esattamente il loro demo ma una registrazione fatta molto male in sala prove e di fronte a un suono che non permetteva proprio di decifrare la canzone ci è stato detto che questo era intenzionale tutto può essere intenzionale non è detto che sia necessariamente una buona idea quindi ti invito magari su questo a riflettere se possa essere o meno questa scelta stilistica rispettabilissima una buona idea o meno per farti uscire fuori pausa grazie vorrei dire l'ultima cosa per quanto riguarda il brano abbiamo pensato un modo per fulgizzarlo che era molto in stile punk grande si vede nel video che inizia con un QR code con pausa che ha messo un QR code abbiamo tappettato Padova che era cercato dove vengo di QR code che rimandra la canzone non ce ne restate si può fare abbiamo cercato a quanto pare si può fare si poteva fare e la cosa ironica che il giorno dopo la mattina dopo di questa cosa hanno reso Padova un posto in cui non si doveva andare hanno detto a tutti quelli non residenti di non andare in città e quindi la mattina ho levato tutti quanti i QR code e nessuno li ha visti perfetto quindi procurato allarme facciamo finta visto che non è prescritto il reato servono dieci anni per quello facciamo finta che non l'abbiamo sentito e non lo diciamo a nessuno grazie per questa tua confessione spontanea meglio a noi che le forze dall'ordine però insieme dalla prigione quando quando arriverò lì mandano una letterina senti ho una domanda però sono pausa ho una domanda pur originosa per chiudere da parte di Cristian vuole sapere se è la ragazza la ex che hai mollato vuole sapere no 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 sarebbe stata abbastanza strano fare una canzone con un ex ma anche farla con qualcuno con cui sto sarebbe stato sei un uomo di sani principi perché artisticamente è qualcosa che va in contrasto mi ricordi Lars von Trier sei un po' Lars von Trier diciamo del mondo del rap questa è una cosa comunque sicuramente interessante pausa è stato un piacere è stato un piacere con no Lars von Trier è un regista cinematografico si lo conosco perfetto che aveva il dogma lui ha il dogma quindi non puoi utilizzare luci naturali luci che non siano naturali devi riprendere in certe condizioni ha tutto un codice il dogma si chiama appunto l'opposto di Boris praticamente l'opposto di Boris ne più ne meno bravo pausa grazie è stato un piacere conoscerti in bocca al lupo giganteschi giganteschi però abbiamo veramente più di un problema c'è rimasto male Cristian che quella non era la fidanzata non era la fidanzata la ex no bugiardo è buona era ovviamente era ovviamente era ovviamente l'ex no però guarda che lui c'ha il codice di ammurabi quindi secondo me non guarda che quel ragazzo c'ha una cultura che a noi ci infaschetta infiocca e ci mette a lato non ne ho dubbi non ne ho dubbi ecco io voglio dire questa cosa specialmente dopo averlo sentito che questa è una persona con la quale invece farebbe piacere lavorare tirare fuori il meglio su quando vuole tirare fuori sta voce cattiva magari anche non fare la voce cattiva per tirare il contrasto e dare la botta nel pezzo quando serve questo è materiale materiale buono sicuramente sì anche io sono d'accordo su questa cosa vabbè questa è una cosa interessante sicuramente certo che non è esattamente la nostra cup of tea la nostra tazza del tè di tutti i giorni nel senso che non ci siamo occupati di rap almeno a livello produttivo nessuno quindi probabilmente siamo noi inadeguati a lui però sarebbe figo sicuramente metterci le mani sopra non d'accordo allora siete pronti a mettere le orecchie sul prossimo progetto si chiamano porno cachet ok già mi piacciono ebbè immaginavo aspetta fammi vedere se l'ordine è giusto scusate perché non vorrei saltare invece l'ordine di di convocazione di oggi no in realtà dobbiamo sentire secret site scusatemi l'ultimo ah i secret site bravo esatto i secret site mentre per ultimi ascolteremo i porno cachet che erano gli ultimi a essere convocati secret site in realtà erano i secondi a essere convocati chiedo scusa secret site se vi abbiamo fatto perdere una posizione spero di non avervi fatto perdere una mezz'ora importante della vostra esistenza cerchiamo di recuperarla adesso il brano si chiama there must be a way ci deve essere un modo ci deve essere un modo Grazie a tutti 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 No Grazie a tutti 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 Ciao Grazie a tutti 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 suoni Grazie a tutti 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 Grazie Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Ok ok Grazie a tutti 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 Grazie a tutti